E allora, noi siamo giunti a quello che qua davanti stanno aspettando, vero? Però prima di questo, visto che si stanno un attimo preparando, io vi dico che tra un po' ci sarà un'estrazione, mi raccomando, siete ancora in tempo per acquistare il biglietto che costa 2,50€, il primo premio, una splendida crociera, e quindi, sì, siamo pronti? E allora, io vi dico che loro, ormai sapete già di chi si tratta, fanno parte di varie edizioni della notissima e fortunatissima trasmissione, quale? E allora io qui sul palco, a Casa Pulla, i ragazzi di Amici! Buonasera, Giulia, Gian e Antonino! Buonasera, Giulia! E allora, che giù è un giugno, infatti non si viene nuova, però che siete tantissimi! fateci sentire un po' di casino dai di nuovo ancora ciao a tutti vai già saluta io più che altro con Antonino adesso facciamo le diagonali lei le fa io ho smesso di ballare ma come Antonino non volevi fare un passaduo io ho smesso di ballare per il mio spazio di tutti loro io ho smesso di ballare credo che tu facessi ma sto io ho tolto il microfono Giulia, viente la voce è infatti c'è chi vuole vedere Antonino ballare? sì cantare? di meno più ballare la tua baciata è rimasta nella storia vabbè ma infatti poi l'ha rifatto e tu è lui ma va bene la Capuano va benissimo e allora ragazzi scusate la mia intrusione un buonasera a tutti facciamo sentire il calore di Casa Pulla forza allora ovviamente ognuno di voi si esibirà quindi darà un po' di soddisfazione al nostro pubblico va bene? quindi man mano farò voi dovete la sigla già c'è stata quindi siete a posto avete visto chi ci sarà qui in piazza e io presenterò uno per uno e magari ognuno ci esibisce va bene? va benissimo allora dopo grazie ok allora allora Grazie a tutti.